Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi vi presentiamo, anzi vi facciamo un'anticipazione di quello che Amazon ci dà la possibilità di acquistare a dei prezzi molto vantaggiosi. Non perdiamoci in chiacchiere, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e a mettere un mi piace e magari anche attivare la campanella così da essere avvertiti ogni volta noi pubblicheremo un nuovo video. Ma prima di poter passare alle offerte, passiamo alla nostra sigla! Quindi ci spostiamo sul cellulare e andiamo a vedere le offerte che ci sono. Per tutti coloro che vorressero entrare nel mondo del nostro dispositivo domotico vi consigliamo l'Ecoflex, un prezzo di 14,99€ rispetto ai 29,99€ che di solito viene venduto direttamente sul sito Amazon. Con questo dispositivo avete la possibilità di poter approcciare il mondo della domotica e magari acquistare anche un accessorio di quelli che vi dà la possibilità di mettere sotto l'Ecoflex per poter magari controllare i vostri televisori, tutti i dispositivi che vanno ad infrarossi o mettere un orologio o semplicemente mettere tanti altri accessori che ci sono a disposizione con questo prodotto. Se invece volete un eco che abbia un audio sicuramente migliore rispetto all'Ecoflex che è prodotto di tutto rispetto perché può essere messo ovunque grazie alla presa posteriore, vi consigliamo gli EcoDot di terza generazione ad un prezzo di 19,99€ rispetto ai 49,99€. Avete un audio sicuramente migliore e avete un prodotto che vi dà la possibilità già di poter comandare qualsiasi cosa. Se invece volete un eco più evoluto abbiamo l'EcoDot di quarta generazione, prodotto venduto a 24,99€ rispetto ai 59,99€ se poi volete un eco da poter mettere anche sul comodino vi presentiamo l'EcoDot con integrato anche l'orologio. Prezzo attuale 34,99€ rispetto ai 69,99€. Ma se pensate che il vostro comodino sia troppo spoglio e volete un prodotto che non solo vi comandi la domotica di casa quindi qui magari parliamo di persone che da un po' che stanno masticando coi dispositivi domotici e vogliono fare un upgrade un po' importante o ampliare la loro collezione di Eco, vi consigliamo gli EcoShow. Sono gli EcoShow della precedente generazione ma prodotti di tutto rispetto. Stiamo parlando dell'EcoShow 5 di prima generazione ad un prezzo mai visto 39,99€ rispetto ai 89,99€. Oppure EcoShow 8 di seconda generazione da 129,99€ a 84,99€. Con questi prodotti avete la possibilità non solo di poter comandare la parte domotica di casa vostra ma di poter anche avere ad esempio la possibilità di vedere dei film su Amazon Prime oppure se richiedete delle notizie o delle previsioni meteo la parte video andrà a completare l'esperienza domotica. Quindi avete la possibilità ad esempio di creare una routine mattutina dove dando il buongiorno vi partiranno le notizie ad esempio di Sky TG24 e potrete vedere direttamente sul display come se lo vedeste in televisione. Vi ricordiamo che tutte le offerte che vi abbiamo presentato in questo video molto veloce perché comunque manca poco tempo anche al Prime Day quello ufficiale le trovate tutte qui sotto in descrizione quindi vi basterà semplicemente cliccare sul link del prodotto che vi interessa e verrete mandati direttamente sul sito Amazon. Ti ricordiamo poi di stare anche attenti ai bundle perché parecchie volte vengono inseriti anche prodotti come ad esempio un eco insieme ad una lampadina piuttosto che ad una presa o altri accessori e anche quei bundle hanno un ottimo prezzo rispetto a volerli acquistare separatamente. Detto questo ragazzi concludiamo questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!